Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale BreakTech. Oggi nuovo video, oggi parliamo di accessorio, parliamo di cuffie, parliamo delle Soundbeats Clear. L'azienda mi ha inviato questi prodotti proprio per testarli. Io conosco già questo brand perché avevo già acquistato delle altre cuffie che mi avevano convinto. Loro hanno una particolarità assoluta perché hanno un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Sempre, sempre il top sotto questo aspetto. Adesso ve le racconto e vi dico come mi sono trovato, come vanno, se conviene acquistarli o meno. Qua sotto vi ricordo il link per seguirci ovunque. Ci potete venire a trovare comunque sulla nostra community. Abbiamo un nuovo sito internet, ve lo metto qua sotto, www.breaktech.it. Mi raccomando, veniteci a trovare anche là sopra perché tutti i giorni ci saranno delle news, novità, ci sono delle linee guide, anche per installare varie applicazioni per chi ha dei problemi con i telefoni cinesi. Abbiamo messo un po' delle chicche non da poco. Quindi veniteci a trovare anche sul nostro nuovo sito che è online e seguite i ragazzi dello Specialista. Anche lì, link qua sotto in descrizione. Il sito dello Specialista è pronto, anche quello è online, quindi mi raccomando, seguite i ragazzi. Adesso partiamo perché c'è molto da dire. Voglio raccontarvi di queste soundpits clear perché ragazzi, a parte che esteticamente sono stupende, ma costano poco e hanno, e restituiscono una qualità audio veramente fantastica. Allora, prima cosa che salta all'occhio di queste cuffie ragazzi, sicuramente l'estetica. Soundpits ha puntato molto sotto questo profilo perché ha lanciato delle cuffie che sono totalmente trasparenti, bellissime, sono veramente belle. Partirei subito anche dal case che è particolare, tutto trasparente anche quello. Mi piace la trama che c'è nella parte sotto. Abbiamo solo un tasto fisico qua sotto che serve per il pairing. Poi abbiamo l'attacco e l'ingresso Type-C per ricaricare il case. Vi dico subito per quanto riguarda l'autonomia case, da una batteria da 400 mAh, un'autonomia che va a ricaricare le cuffie tre volte complessive per fare un massimo di quasi 40 ore di ascolto. Io vi posso dire la mia per quanto riguarda l'autonomia generale delle cuffie che ho utilizzato in questi giorni. Le ho testate a lavoro, quindi tutto il tempo le mie otto ore lavorative con le cuffie. Le ho utilizzate tantissimo per le chiamate, per ascoltare anche audio. E devo dire che mi hanno sempre portato fino a fine giornata e devo dire che sono risultati ottimi. Loro fanno realmente sette ore di utilizzo intenso con audio al massimo. e se le ho utilizzate un po' che ho mezz'ora di musica, poi fate chiamate quella, vi durano veramente, veramente tanto. Quindi autonomia pazzesca, ottima, super promossa sotto questo aspetto. Dicevo però il case è fatto bene, è completamente in plastica. Mi piace che la cerniera non è fatta male, anzi, non ha scritto lì, non si muove, anzi, sembra molto, molto stabile. Ed all'interno poi troviamo queste due cuffie. Cuffie che pesano veramente poco, 4 grammi mi sembra, sono leggerissime. Una volta che le andrete a indossare, vedete, sono molto, molto comode. Ovvio, sono in ear, quindi comunque vi devono piacere. Dovete essere utenti che utilizzano questo sistema, questi tipi di cuffie, perché loro già così fanno da riduzione del rumore, fanno tipo da tappo. Loro non hanno, tra l'altro, la riduzione del rumore, ma adesso ci arriviamo, però come indossabilità sono ottime, veramente, ragazzi, le ho trovate super, super ottime, sono leggerissime e si indossano molto, molto bene. Hanno anche la certificazione IPX4, quindi sono anche adatte per chi dovesse fare sport, perché quindi sono comunque impermeabili al sudore, quindi anche questa cosa qua mi è piaciuta. Ma come vanno queste soundbeats, Clare, ragazzi, vanno bene, considerando che loro hanno un costo veramente basso, si trovano sotto i 40 euro. Qua sotto vi lascerò il link per acquistare, quindi mi raccomando, se siete interessati potete andare ad acquistarlo direttamente dal link sotto in descrizione. E sono cuffie che hanno una, diciamo, le trovate molto equilibrate, non sono cuffie con DAC strani, non hanno e non puntano a una vendita comunque per chi sta cercando e ricercando delle cuffie di qualità, perché loro non sono da top di gamma, sono cuffie dove non hanno la riduzione del rumore, non hanno DAC audio integrati, ma funzionano bene, hanno un ottimo audio, ma soprattutto hanno ben quattro microfoni, che fanno sì che nell'utilizzo quotidiano, io le ho utilizzate, adesso vi farò sentire uno spezzone, in chiamata, in auto, devo dire che mi hanno sorpreso, perché la qualità della registrazione della voce con queste cuffie, devo dire che tutto sommato è molto molto buona. Sentite questo spezzone di registrazione che ho fatto con le Sound Beats Clear. Provo registrazione audio delle Sound Beats Clear, in condizioni abbastanza difficili, siamo in auto, quindi sto guidando con rumori ambientali, e questo è come queste cuffie catturano la mia voce con i quattro microfoni. Devo dire che molto molto bene per quanto riguarda queste Sound Beats, considerando anche il fatto che loro non hanno una riduzione del rumore. L'avete sentito, quindi si sente molto bene, considerando che io stavo guidando, ero in macchina, quindi a rumori ambientali che ce n'erano e come, loro sono riusciti, nonostante non abbiano comunque la riduzione del rumore attiva, a compensare bene comunque la mia voce, a registrarle, a far sentire all'interlocutore, tra l'altro molto bene quello che io dicevo. Quindi lato chiamate sono promosse. Lato audio buono, veramente buono, perché il suono, come tutte le Sound Beats che ho trovato, che ho provato in passato, risulta sempre molto alto, ha un volume alto, ha i bassi che si sentono, quindi abbiamo anche un minimo di bassi, in generale è una qualità audio che mi convince, perché avvolgente, utilizzando tutte le cuffie, è un buon, buon audio. E sentite qui una spezione, appunto, della riproduzione di una musica con queste cuffiette. Devo dire, molto, molto bene. Quindi avete sentito come si sentono? Molto, molto bene. Io, ragazzi, devo dire che, ripeto, le utilizzate al fuori, non al chiuso, ma fuori, all'aperto, a lavoro e anche la qualità della musica, ascolto, anche per quanto riguarda file multimediali. Devo dire che mi hanno convinto, mi hanno veramente convinto. Loro hanno anche una funzione Gaming Mode, quindi se voi siete anche utenti che giocate molto con lo smartphone, loro sono molto, molto buono sotto quell'aspetto. E un'altra cosa che mi hanno sorpreso è il controllo Touch. Così adesso vi dico l'ultima cosa, perché poi andiamo a vedere anche l'applicazione, perché c'è anche un'applicazione delicata che permette a queste cuffie di essere aggiornate con il software, via software. Questa cosa è importantissima per quanto riguarda le cuffie. Ma dicevo, per quanto riguarda i controlli, sono tutti i Touch e sono super, mega completi. Si può andare a alzare o abbassare il volume, si può andare a passare da una traccia all'altra, si può andare a rispondere o a chiudere una chiamata. Quindi devo dire che è molto buono. Si può andare a richiamare anche l'assistente vocale. Tutto tramite Touch e tutto molto, molto fatto bene. Nel senso che il Touch risponde ai comandi alla perfezione. Non ho mai dovuto impazzire perché non mi prendeva il tocco. Anzi, devo dire che hanno fatto una cosa geniale perché per passare da una traccia all'altra basta tenere per un secondo il dito sopra la cuffia. Per alzare invece o abbassare il volume basta soltanto passare il dito sulla cuffia. Questa cosa è ottima, veramente ottima perché fa sì che le gesture durante la giornata lavorativa, quotidiana, siano sempre prese alla perfezione dalle cuffie. Quindi è anche un altro punto a favore di queste Sunbeats Clear. Ma adesso spostiamoci perché adesso vi faccio vedere anche l'applicazione. Un'applicazione molto basilare. Come potete vedere non è che si può fare chissà cosa. Abbiamo l'equidizzatore che funziona abbastanza bene. Nel senso che se andiamo a spingere al massimo i bassi, la differenza da quello normale a quello personalizzato c'è e si sente. Abbiamo poi la possibilità appunto di aggiornare il software e basta perché poi possiamo azionare, abilitare o meno la modalità gaming che quello si può fare anche tramite i tasti, quindi soft touch cliccando direttamente dalle cuffie. Quindi un'applicazione molto, ripeto, basilare perché comunque il telefono, scusate, le cuffie non hanno all'interno dei DAC dedicati, non hanno la riduzione del volume, del rumore ambientale, e quindi sono molto base sotto questo profilo. Come base è anche il loro prezzo però ragazzi, perché loro costano sui 40 euro, anche anzi qualcosa meno, perché tutte le volte ci sono delle offerte. Ripeto, qua sotto vi lascio il link in descrizione per acquistarle. E devo dire che si sta rivelando questo brand sempre più ottimo per quanto riguarda le cuffie, perché tutte le cuffie, tutti i prodotti in questo brand sono veramente buoni ragazzi, sono veramente buoni. Ripeto, non sono le prime cuffie che ho provato dalle Sunpizze, già le altre che erano quelle di versione un po' più top di gamma mi erano piaciute veramente tanto, ce le ho ancora tra l'altro, c'era il mio socio Nico, e queste hanno fatto sì che mi fanno sempre più avvicinare a questa azienda, soprattutto perché, ripeto, a me piacciono quei prodotti che hanno un rapporto qualità prezzo ottimo, loro sono uno di questi. Costano poco, si sentono bene, ottimi microfoni e soprattutto ottima l'autonomia. Veramente ottimo sotto questo profilo. Per questa recensione quindi è tutto, io spero che vi sia piaciuta, se siete interessati ad acquistarlo vi ricordo qua sotto il link in descrizione, ma qua sotto trovate il link per venirci a trovare ovunque. Siamo su Telegram con la nostra bellissima community e siamo su tutti i social, adesso anche da poco siamo su TikTok, quindi ragazzi siamo ovunque, veniteci a trovare e soprattutto www.breaktech.it abbiamo il nostro sito ufficiale online, quindi anche lì potete venirci a trovare per leggere le varie novità inerenti al mondo della tecnologia e vedere tutto quello che abbiamo messo, ci sono anche degli sfondi carini da scaricare, un po' di tutto, potete anche commentare sui vari post che vengono messi sul sito. Per questa recensione è tutto, io sono Fabio da Breaktech, loro sono le Sunbeats Clear, io le promuovo a pieni voti, veramente ottime, rapporto qualità prezzo, fantastico. A voi ragazzi quanto sono belle, sono bellissime, bellissime, molto molto belle. Ciao da Fabio di Breaktech, ci vediamo al prossimo video.